Immagine, ero un po' troppo sul battitore della punizione, che riceve da dietro, per Valletta, scarica a sinistra per l'arrivo di, un cross in area per la testa, aggancia bene Angotti, atti partito col portiere, gol! Gol di Angotti, gol di Angotti! Ottimo aggancio di Angotti, di Pettola, ha messo a terra, ha fulminato il portiere avversario. 2-2, rimonta della via per la mezzia e possiamo adesso pensare anche a una possibile vittoria. Ottimo d'ora del 2-2, prestato da un difensore della Paganese, lascia poi a Lucia che scaglia in avanti ma sbaglia il lancio.